Amici carissimi di Nettocazzurra e Meteo Brollo, una buona giornata a tutti. Dunque il piccolo frontone anticiclonico che ci ha accompagnato Finanieri ci ha lasciato causa questa perturbazione atlantica sopravenuta nella nottata che avrà veramente vita molto breve ma che avrà naturalmente anche il pretesto di essere accompagnata da aria molto fredda di stazione artico-marittima e causa anche infettazione di aria balcanica. Ecco a voi una giornata tipicamente invernale. Dopo il passaggio poco piovoso di questa perturbazione sarà la volta del vento che si orienterà dai quadranti nord-orientali garantendo di fatto poi un'espansione dell'anticiclone azzuriano la volta di giovedì in poi. Ma non sarà per tutti questo. Comunque sino a mercoledì avremo una variabilità piuttosto estesa, qualche nuvolamento in transito ma tutto sommato sarà oggi la giornata più difficile. Qualche piovasco durante l'intera giornata, molto nuvoloso seguito appunto da Bora nel pomeriggio che si farà più intensa tra domani e mercoledì e poi via via appunto da martedì in poi abbastanza sereno ovunque. Temperature in ribasso naturalmente non andranno oltre gli 11-12 gradi e domani forse ancora meno. Con questo vi saluto e ci sentiamo domani.